E niente, allora abbiamo l'ultima, cioè l'ultima nel senso come Miss in carica, Miss Trans, secondo posto, Toscana. Vi presento voi, signore e signori, Talita. Ciao Talita. Ciao. Abbiamo già, ci siamo viste l'anno scorso, la prima edizione di Miss Trans Autunno 2022 e quest'anno lei ha voluto ripartecipare con noi. Ti presento Talita. Ciao, sono Talita, è un piacere essere qua il secondo anno a partecipare di questo bellissimo concorso. Per me sono estremamente onorata a partecipare insieme a voi. Grazie. Vuoi salutare Piccolo Magazine? Sì, ma certo, vorrei salutare Piccolo Magazine per tutto il suo appoggio, vorrei salutare anche il mio marito che è a casa, che di sicuro mi guarda. E va bene, va bene così, un saluto a tutti ci sta. Ragazzi, io volevo dire una cosa. Questo concorso lo facciamo più che altro sempre per LGBTQ, per essere unite più che altro, perché ricordiamoci una cosa, un pizzico di umiltà per tutte noi vuol dire molto. Non è vincere una fascia, una corona, andare avanti. Tanto non andiamo da nessuna parte. È giusto per manifestare queste manifestazioni per tutte noi, per essere unite. E con questo ringrazio Piccolo Magazine, Piccolo Transgressoni.